8.500 sono i chilometri percorsi da questa spedizione attraverso Tunisia, Libia, Niger e Algeria. Elemento centrale del viaggio sono le distese infinite del Tenerè e l'oasi di fascine, dove abbiamo un compito speciale, documentare le antiche tecniche di scrittura ancora in uso in quest'orasi isolata. L'accoglienza alla scuola è semplicemente fantastica. Quello che si presenta come il marabutto del villaggio ci conferma la tesi del professor Noia. Sulle tavolette di legno si riportano i versetti del Corano, con movimento discendente pur mantenendo l'orientamento del testo da destra a sinistra. Il marabutto, pur essendo sera, si offre di mostrarci immediatamente la tecnica. In breve assistiamo alla realizzazione di un paio di tavole. Sulle Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.